Buongiorno a tutti ragazzi, today is the day, ovvero il grande giorno dove tutto si decide. Oggi, dopo le 22.45 circa, sapremo già di che morte e morire. Noi, i milanisti, ma anche i tifosi del Napoli. Noi tutti nella stessa barca. Qualcuno affonderà in Europa League, qualcuno andrà nell'Europa che conta, ovvero la Champions League. Prima di iniziare questo video, vi invito ovviamente a lasciare like al video, iscrivervi al canale e a seguire il mio collega, insomma, tifo milanista, sponda milanista, super esperto, Andrea Longoni. Scaricate la PuanFootball, trovate il link in descrizione. Il video a proposito ragazzi è fatto appunto con Andrea, esperto milanista, che ci racconterà dal suo punto di vista quest'ultima giornata, le sensazioni, le emozioni, prima della partita. Ciao Andrea, la prima cosa che vorrei chiederti è un commento in generale sul percorso del Milan. Ed è un piacere enorme intanto averti qua sul mio canale. Un saluto buona domenica, la domenica che domenica è l'ultima giornata, si decide tutto per quanto ci riguarda. Grazie a Colpo Gobbo per l'invito sul tuo canale, un saluto a tutti gli iscritti di questo bel canale. Che dire, il cammino del Milan è stato a tratti entusiasmante. Milan che dopo tanti anni addirittura era campione d'inverno, è stato a lungo primo e fino a poco tempo fa comunque aveva anche ampio margine rispetto alla quinta. Oggi si ritrova nelle condizioni di dover vincere probabilmente per strappare un posto in Champions League. In Champions League in Milan c'è stato 37 giornate su 37. Uscire oggi sarebbe qualcosa di clamoroso, di devastante per chi ha il Milan nel cuore. È chiaro che se poi il traguardo non viene raggiunto bisogna fare un bilancio definitivo. Per come si era messa, per quanto mi riguarda, non sarebbe comunque una stagione positiva. Seppur si è gettato le basi per ripartire, ma per il Milan sembra essere sempre l'anno zero. Questo deve essere l'anno uno, per il Milan è fondamentale andare in Champions League. Quest'anno si è ripresi da dove si è rilasciati. L'anno scorso Milan con l'arrivo di Brejmovic ha trovato un'identità, è diventato una squadra con la S maiuscola. Ha ottenuto risultati anche importanti, prima imprevedibili. Però il cammino deve proseguire. Senza Champions League, ripeto, sarebbero più le delusioni che i lati positivi. Il Milan, per quanto mi riguarda, ha fatto comunque un cammino importante. Nel secondo, nel giro di ritorno però, ha fatto un cammino troppo assinghiozzo. Troppi errori, troppi infortuni, l'assenza di Brejmovic. Sono state una serie di circostanze che hanno un po' rallentato il percorso. Oggi si decide la stagione, ma anche la prossima stagione. Perché se si va in Champions si può fare un tipo di mercato, il progetto può avere dei miglioramenti. Sicuramente, altrimenti capite che, insomma, il salto di qualità al Milan non riuscirebbe a farlo. Direi che hai descritto alla grande questo percorso del Milan, pieno di difficoltà, di infortuni, abbiamo visto, eccetera. Ma adesso sono curioso di capire il tuo punto di vista sul percorso di Napoli e Juventus. Perché, insomma, siamo noi le avversarie, Napoli e Juve sono le avversarie del Milan per questo posto nell'Europa che conta. Quindi, aspettative, un commento, ecco, sul percorso dall'inizio alla fine, le difficoltà, cosa c'è stato di positivo e cosa di negativo. Sono curioso. Da osservatore esterno, osservando, appunto, il cammino di Juve-Napoli, devo dire che mi ha sorpreso molto il percorso del Napoli, soprattutto nella seconda parte, a un certo punto sembrava quasi spacciato, invece ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi che gli hanno permesso di essere, almeno fino a questo momento, oggi virtualmente in Champions League. Poi vedremo il risultato della gara odierna, che sulla carta però sembra abbastanza facile. Per le situazioni legate all'ite tra De Laurentiis e Gattuso, devo dire che se Napoli va in Champions League fa un mezzo miracolo. Guardando il lato puramente sportivo. Napoli partiva per arrivare tra le prime quattro, però per come si era messa, per Gattuso e De Laurentiis, che hanno dei caratteri piuttosto fumantini, e alla fine sono esplosi se il Napoli va in Champions League fa qualcosa di importante. E in ogni caso, essere lì a ridosso, o comunque in zona, sarebbe comunque un risultato importante. La Juve mi ha deluso, mi ha deluso. Devo dire che a settembre, quando ho visto le prime partite, mi aspettavo delle difficoltà. Devo dire che per quanto mi riguarda la scelta di Pirro è stata evidentemente sbagliata, però alla fine la Juve oggi si gioca la possibilità di arrivare in Champions League, e non dico che salverebbe la stagione, perché i tifosi giuventini, lo sapete meglio di me, sono abituati a vincere. Eviterebbe però quello che sarebbe un fallimento sportivo ed economico molto evidente. La Juve ha, secondo me, fatto un'ottima operazione con Chiesa. Meno male che c'era Chiesa, verrebbe da dire, per i tifosi giuventini. Ronaldo, i suoi gogli affatti, però ha giocato spesso da individualista per quanto mi riguarda. Nell'ultima parte mi è sembrato un po' corpo estraneo rispetto alla dimensione Juventus. È una stagione non positiva, tutto sommato però arrivano due successi, la Supercoppa e la Coppa Italia. Dalla Juve ci si aspetta evidentemente molto molto di più. Però con la scelta di Pirro e alcune scelte di mercato io sinceramente intravedevo un po' queste difficoltà. Fino a questo punto probabilmente no. Adesso Andrea, da te voglio pronostico le difficoltà che ci possono essere lì. Eh, Atalanta-Milane è la gara, è la gara più difficile per definizione, perché è l'ultima, perché ci si gioca tutto. A Gimina si gioca la vita, calcisticamente parlando. Perché l'Atalanta con Pioli è l'unica squadra che il Milan non ha mai battuto. Anzi, diciamolo, spesso ha preso schiaffoni. E quindi ci sono una serie di considerazioni che vanno fatte. Ma anche Ibraimovic oggi, e Ibraimovic ha una valenza non soltanto tecnica, ma anche di leadership. Con il Milan, con Ibra, il Milan ha sicuramente più personalità. Senza Ibra fai fatica a intravedere un leader. Ad esempio con la gara del Cagliari non si è intravista nessuna leadership. Chier lo è, ma a suo modo, molto più silenzuoso, meno carismatico rispetto a Zlatan Ibraimovic. Dopodiché, è vero che quando il Milan veniva dato per spacciato, ha sempre trovato il guizzo. Penso ad esempio alla gara con la Juventus, al massimo si pensava a un pareggio per il Milan. Invece no, il Milan ha sfornato, complice anche di difficoltà della Juventus, la partita quasi perfetta. Anche con la Roma, il Milan viveva un momento negativo, è andato e è riuscito a battere i giallorossi. Il dato che può far ben sperare è che in trasferta il Milan quest'anno ha camminato con un ritmo da scudetto. Dall'altra parte però l'Atalanta è una squadra che il Milan non riesce proprio a... non dico neanche a battere, ma forse a contrastare, almeno fino ad oggi. Il secondo tempo tra Juve e Atalanta in settimana in Coppa Italia mi fa ben sperare. Dall'altra parte che l'Atalanta fallisca due partite consecutive così importanti mi sembra molto difficile. Per questo faccio fatica anche a fare un pronostico, sono anche un po' scaramantico. La ragione mi dice che il Milan non vince, il cuore mi dice che il Milan fa un partitone. Vediamo poi chi avrà ragione, sicuramente il Milan arriva in condizioni non ottimali e si è infilato in questo tunnel dopo la partita con il Cagliari. Con una vittoria il Milan oggi sarebbe tranquillo e giocherebbe per arrivare il secondo. Vediamo, vediamo partita sicuramente complicata e Gasperini è un osso duro, lo sappiamo tutti. A tuo parere quali conseguenze ci saranno poi per la squadra che non riuscirà ad andare in Champions League? Qualcuno oggi starà fuori, sì, Napoli, Juve o Milan. Vediamo, vediamo chi può star fuori. Intanto rispondendo alla domanda di prima su chi merita, secondo me il Milan lo merita. Lo merita perché ha fatto un cammino comunque importante, ha avuto tantissimi infortuni e è sempre stato in Champions League. Chi non lo merita? Forse la Juventus, non me ne vogliate, ma la Juve aveva una stoffa, per dirla in una celebre metafora di Berlusconi, molto importante per fare un bel vestito. Il Napoli ha una rosa inferiore, il Milan ha ancora di più. Per questo vi dico che da un punto di vista sportivo lo meriterebbe il Milan, il Napoli. E la Juve forse no. Dall'altra parte però non posso ignorare quel famoso Juve-Napoli e dire che passare la liscia, secondo me, non è giusto. Juve-Napoli con De Laurentiis che vuole fare il furbo, sposta la partita. Sappiamo tutti com'è andata, c'era anche il punto di penalizzazione tolto. Se c'è un dio del calcio, secondo me il Milan ci va in Champions. E per una giustizia sportiva il Napoli non lo meriterebbe. Da un punto di vista invece puramente sportivo, la Juve doveva essere in Champions per le qualità che ha già da tempo. E se non ci arriva forse è anche giusto. Non me ne vogliate. Dall'altra parte senza Champions il Napoli continua comunque su questa falsa riga per arrivare nelle prime quattro l'anno prossimo. Se va in Champions può lottare per lo scudetto. La Juve se va in Champions ha più risorse economiche per comunque provare a riaprire un ciclo che quest'anno per forza di cose si è chiuso. Se non va in Champions ha difficoltà economico-finanziarie e i soldi servono per fare un mercato. Lui dovrà fare un mercato massiccio. A centrocampo soprattutto. Vedremo cosa farà in porta, tra poco ne parleremo. E là davanti perché io da osservatore esterno non so chi resterà tra Ronaldo, Di Bale e Morata. Se hai i soldi puoi farlo meglio. Se non hai i soldi hai più difficoltà. Oggi lo vedo un po' come uno spartiacque tipo Pato Tevez. Perché il Milan può dare la spallata alla Juventus. Se il Milan va in Champions ha ancora più risorse per migliorare la squadra e per provare l'anno prossimo a lottare per lo scudetto, viste le difficoltà dell'Inter. Se non ci va, allora non riesce a dare la spallata alla Juventus, come successe nel caso Pato Tevez, lo sapete bene. e dovrà ripartire con difficoltà puntando magari al quarto posto l'anno prossimo. Per questo oggi davvero una giornata cruciale e uno spartiacque storico per il calcio. Per chi ti fa Juve, per chi ti fa Milan, per chi ti fa Napoli e per chi ti fa Inter che evidentemente capirà con chi se la dovrà vedere l'anno prossimo. Chiusura, chiusura con Donnarumma. Ma Donnarumma che fa? Viene veramente alla Juve? È ancora tutto in ballo o aspetta la giornata di oggi per capire insomma quale sarà il suo futuro? Se lontano da Milano o ancora al Milan? Donnarumma, Donnarumma. Allora, sul mio canale Milanello parliamo di Donnarumma da diverso tempo come potete immaginare. Io lo vedo la Juventus, so che c'è una base di accordo, mi dicevano 9 milioni e mezzo con 20 di commissione a Raiola più 3 alla famiglia. Mi stupirei per essere chiari con o senza Champions League per il Milan, con o senza Champions League per la Juve se alla fine Donnarumma non andasse alla Juventus. Mi sembra che il discorso sia molto ben avviato se non già formalizzato. Al Milan sono quasi rassegnati, hanno presentato un'offerta da 8 milioni che non è stata neanche commentata perché Raiola si è sempre negato e quindi hanno bloccato Mignon. Io mi aspetto che la prossima settimana il Milan annunci Mignon e Donnarumma possa andare alla Juventus. Mi stupirei molto non fosse così, poi le vie del mercato sono infinite, si è parlato anche di Barcellona in settimana. Però se mi chiedete un parere, caro Colpogobbo, vi dico che secondo me parlerete molto di Donnarumma l'anno prossimo perché diventerà un giocatore della Juventus. Dalle informazioni che ho, è chiaro che poi non è tutto nero su bianco, gloria a voi cari. Però il discorso è molto ben avviato e al Milan non hanno contatti diretti con Raiola da mesi. Raiola si è persino negato più volte, Maldini aveva cercato un contatto diretto con Donnarumma che ha detto, parate con il mio procuratore, capite come il discorso rinnovo non sia assolutamente in discesa per il Milan, anzi, c'è una salita enorme e lassù mi sembra di intravedere una bandiera bianconera appunto perché mi aspetto che Donnarumma vada alla Juventus. Staremo a vedere, grazie per l'invito, per l'ospitalità su questo bel canale, buona ultima giornata di campionato, ognuno ha le proprie preferenze e che dire, che passi il migliore. Io spero possa essere al Milan, o voi la Juventus, magari passiamo entrambi, chissà. Un abbraccio e buona giornata, ciao! Bene signori, questo è tutto, ringrazio Andrea Longoni per la sua disponibilità. Ragazzi, iscrivetevi al suo canale YouTube sul Milan, Milanello, quindi mi raccomando perché è molto completo, molto puntuale, mercato, analisi, rumors da Milanello. Ragazzi, Andrea è sempre sul pezzo. Iscrivetevi al suo canale, vi lascio sotto in descrizione ogni contatto social, quindi Instagram, eccetera, tutti i social di Andrea. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, serve sostegno e collaborazione per la creazione di questi contenuti anche tra tifosi di altre squadre, che secondo me danno un valore aggiunto, uno sprint in più, in vista proprio di queste partite. Vi ringrazio per l'attenzione finora adatta e che dire ragazzi, ci vediamo stasera per il post-gara. Un abbraccio a voi e serena domenica.